Grande attesa per gli spettacoli di stasera a Palermo per dare il benvenuto al nuovo anno organizzati dal Comune. Entrambe le aree di Piazza Giulio Cesare al CEP saranno transennate e non si potrà accedere con valigie, trolley, alcolici, bicchieri e contenitori di vetro, oggetti contundenti e bastoni per i selfie. Questi i punti di ingresso per accedere all'area del concerto di Piazza Giulio Cesare, via Roma all'altezza dell'Idol, via Milano, via Torino. Punti di uscita anche su via Trieste, via Trento, via Gorizia e via Piave. Per raggiungere la piazza l'AMAT ha prolungato il servizio del tram con tre vetture sulla linea tra Roccella, Brancaccio e la stazione centrale con corse ogni 20 minuti. Questi invece i punti di ingresso per accedere all'area del concerto al CEP, via Calandrucci, lato Monte e lato Valle, via Paladini a destra guardando il giardino pubblico all'altezza del Civico 15. Uscite negli stessi punti. Per raggiungere la zona dello spettacolo l'AMAT, anche in questo caso, ha prolungato il servizio del tram con quattro vetture sulla linea tra CEP e la stazione Notarbartolo con corse ogni 15 minuti. Non paio di giorni sono già scattate le modifiche al traffico e alla viabilità con un grande dispiegamento di vigili urbani nelle zone nevralgiche. Da domenica scorsa alcuni divieti sono in vigore nella zona della stazione centrale, dove per la presenza del palco non è più possibile circolare lungo il tragitto iniziale di via Roma, lato Piazza Giulio Cesare. La circolazione in direzione proprio della piazza è riservata a sole residenti. Chi proviene da via Cavour potrà svoltare a sinistra, imboccando via Malta, chiusura in vigore sino alle 16 di domani, per consentire alle mestranze di smontare il palco dello spettacolo. Le strade e le aree nelle quali scatterà la zona rimozione, già attiva dalle 7 di stamattina fino alle 7 di domani, sono nello specifico Piazza Giulio Cesare, via Lincoln, tra Corso dei Mili e Piazza Giulio Cesare, via Gorizia, via Milano, via Trento, via Manzoni, via Trieste, via Torino, via Fiume, via Santa Rosalia, via Parrocchia dei Tartari, tra via Santa Rosalia e via Fiume. Tutte le traverse di via Roma, nel tratto compreso tra Piazza Giulio Cesare e via Montesanto-Pola, saranno invece chiuse al transito con la sistemazione delle barriere di cemento del tipo New Jersey. Anche al Cepi, i divieti di sosta sono in vigore per 24 ore, dalle 7 di oggi alle 7 del 1 gennaio. La rimozione è attiva nelle seguenti strade, via Filippo Paladini, tra via Le Michelangelo e Largo Blasco, via Calandrucci, via Barisano-Datrani, tra via Paladini e via Barba, via Filippo Liardo. Anche in questo caso le barriere di cemento, che serviranno a chiudere al transito le strade, saranno installate dalle 14 di vieti e chiusure anche nella zona del Teatro Massimo, dove molti palermitani si recheranno per festeggiare il Capodanno. Dalle 19 di stasera chiuderanno poi al transito Piazza Verdi, da via Aragona a via Ruggero VII e via Vaglica, da via Sperlinga a Piazza Verdi.